Va bene. Allora entriamo in strada. Non rastrelliamo, entriamo. Discreti. Quante uomini? Cinque. Lo sportivo, lo zio e la nipote e la coppietta. Tutti con abitudini quotidiane. In fondo domani è venerdì e ci sta che qualcuno arrivi per il weekend. Dopo trent'anni di servizio mi avete messo a fare il vecchietto. Lo sai che non sono gli addici. Li hai visti? Da, vieni. Palla? Dammi la palla. Palla? Loro sono i media. Tu seguili ma resta a distanza. Avviso gli altri. Abbiamo beccato il figlio e la moglie. Gli stiamo dietro su via di Salvo. Agli incontro su via Cannabello così ne accerchiamo. Ok, avverto gli altri. Diriggetevi sul lungomare. Dobbiamo tenere d'occhio i possibili via di fuga. Hanno soldato su via Pastore. Vengono verso di te. Tra poco li vedi. Ma sei proprio sicuro, sicuro? Sì.